Matteo Buratto, una domenica in cui non ha funzionato niente per il San Ismuzzano, è questa? Noi abbiamo approcciato secondo me la partita nella giusta maniera, l'atteggiamento era giusto, era quello di sempre. Chiaro magari sugli episodi, partendo un po' dall'autogol, qualche sfortuna c'è stata, poteva andare sicuramente meglio. Il maestro è oggi appareggiato, il quinto posto si allontana di un punto a tre domeniche dalla fine. E' ancora lunga, noi non perdiamo la speranza e la convinzione di voler arrivare all'interno dei play-off, quindi già dalla prossima domenica tenteremo di riconquistare i tre punti. Proprio domenica arriva a Carlino una rosiana che vorrà conquistare la salvezza riflettica. Giochiamo in casa, dovremmo vendere in cara la pelle e ritornare con la stessa voglia di cui abbiamo approcciato le partite nell'ultimo periodo e sfruttare gli episodi a favore, magari meglio di oggi. Il Trento è campione? Sicuramente sono state, sono avverate le previsioni dell'inizio del campionato, è una squadra completa, magari che non gioca un gran calcio, però molto solida ed efficace e i risultati alla fine parlano chiaro. Grazie